Allora stiamo caricando Siamo pronti qua a finire sto Call of Duty Che cazzo stiamo facendo Niente allora qua si parlava Qua abbiamo trovato l'altarino di Gesù Cristo Dobbiamo trovare gli stemmi no? Esatto ma prima dobbiamo vascare un attimo sulla mappa Perché la chiesa me la dà ancora rossa? Tra parentesi Esatto torno dietro C'è qualcosa che dobbiamo prendere Questo è interagito ma non puoi prenderlo E' la mappa La Tageria si abbatte sul villaggio e devi andare da Lucrezia No è rossa Non è che qua la intendiamo in una maniera diversa Il rosso Non penso Questa è una bella domanda L'avevamo preso? Attenzione Estinzione esplorata Inesplorazione Inesplorata Sotto c'è C'è la Nella mappa Ah quindi inesplorata e grigia Inesplorata Vabbè ma scusami Porta pazienza Inesplorazione non vuol dire quello Inesplorazione non vuol dire che ci devi ancora fare della roba Se io esco Egnano c'è ancora qualcosa che non prendiamo Aspetta vediamo nel Qua c'è il dipinto della bastarda C'è il dipinto di Padre Gascoigne Dov'è che Attenzione Non ha detto che è un brutto gioco No per carità Ripristina C'è ha detto che No brutto gioco Io immagino non sia un brutto gioco Ha partito con delle aspettative di roba allucinante bestiale C'è se doveva Capisci se doveva essere Guardiamo attorno alla chiesa Sto guardando Io non trovo una minchia Allora ascolta Ho la da rossa per il pozzo Perché c'è un pozzo di fianco Ah è vero E quindi Allora andiamo Allora facciamo così Andiamo giù Andiamo giù Perché abbiamo dei posti Di Dalla Vergine Guerriera Tutto grigio No nel senso Se io mi aspetto a Resident Evil 7 Però con il setting dell'8 E tu mi butti Duke Nukem 3D Abbiamo un problema Tutto lì E questo non Sì ma non per dar ragione a Chase Nel senso però No Oggettivamente Devi sparare di comunque Esatto Che ci sono E quindi Allora Quale dire di fare esplorazione Vaffanculo Aspetta C'era scusa Aspetta L'unica cosa da fare E prendere la mappa E andare Ti sento Ti sento Non posso entrare Scomparso E io ho fatto Subito la casa A destra della chiesa Nella mappa La prima casa che hai A destra della chiesa Quella L Ok 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 Trovate Ok Vengo lì Anch'io Qua cominciamo di merda Cominciamo Polvere da sparo Ecco ma se io mi metto a creare Della roba Guarda quanti proiettili Posso creare Una soluzione America Anche qua No Ti danno un valigione Di roba C'era C'è anche il coso Dell'inventato E la gestione Potevano veramente Studiarsela meglio Niente Raccogli una mina Deve fare rumore Deve fare Se raccogli una mina Un casino di Cristo Però qua c'è Un 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 Cristo Che non posso Vedi Anche qua Continua a darmela rossa Secondo me Mi avete rotto il cazzo Con sto rosso Niente E poi è andata così Dobbiamo Accontentarci di quello qua Non posso aprire Lì c'è per andare al castello Non me ne frega un cazzo Perché devo spaccare la farina Per quello Non capisco Ah no Scarti arrugginiti Ok Ora è blu Ok Va bene Poi Le porte Matalo Allora Lasso Esatto La sopra La sopra A sinistra O torno indietro Effettivamente Facciamo le cose Allora Io direi Io direi di andare Molto in autonomia Quando le abbiamo Tutte azzurre E ci parliamo Perché qua Se no per me Che dici Vogliamo far così O vogliamo fare Eh proviamo a fare In autonomia Va bene Però in realtà Possiamo far ben poco Io lo dico Vivo così Proprio In simpatia Vediamo qua Cioè allora Ti dico Sai che cosa Davvero Ah qua Ah qua c'è la chiesetta Sì L'impressione che mi sta dando No È proprio quella È come se È come se fosse uno spin off Cioè come se il personaggio Di Resident Evil 7 Si ritrovasse nel mondo Nel mondo di un altro gioco E questo È decorata con un feto Circondato da sei ali È pazzesco E questo è un po' un peccato Perché non è la sensazione giusta Che mi dovrebbe trasmettere Beh Sì Cioè Sì Ma era stato studiato Infatti questo Come Resident Evil Revelation E han detto Eh come Sì Era venuto talmente figo Che han detto No raga Dobbiamo fare il capitolo principale Secondo quelli di Cap È come se fossimo finiti A fare in Nel mondo di Doom O di Com'è che si chiama Quella 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 Di Pain Nel mondo di Pain Killer Sai quelli spara tutto lì Sì Sì capito Vabbè adesso spara tutto Anche se c'è tanto action Per adesso Cioè tu qua comunque Sai che non c'è nessuno Oramai Quindi puoi girare tranquillamente Non hai Non hai tensione di un cazzo Cioè proprio Boh Tu sai che qua Niente può accadere Di roba brutta Ma io non lo darei così Per scontato Poi Eh non lo so Perché su girando Comunque vedi che non possiamo Fare una minchia Cioè non voglio dire Ma Tipo lì c'è chiaramente Qualcuno che si muove Nelle sterpaglie Io gli sparo Vieni Esatto Proprio lui L'esercito dei laican di sta minchia Te piccio Spingi Spingi via il nemico Spingi Ma non lo fa Boh 50 colpi Oh Che cazzo c'è Bastardo Sirius Sam Ho capito dove sei tu Ci sono arrivato adesso Io penso come sono lento Come C'è ancora che girano Nella parte principale Sì c'è qualcuno Tra le sterpaglie Lo sento Hai ragione Ho dato per scontato Una roba che non è vera Boh Boh Almeno Ci sia qualcuno Minchia ti vedo Nelle sterpaglie Ti sto vedendo Sì boh Raga Qua È diventato Sirius Sam 50 colpi Ma questi Non mi fanno Una minchia Spingi via Spingi via A me non spinge Comunque Venga a me Infatti Minchia la testa Gli ho fatto saltare Con due colpi Sì anch'io Anche io Perfetta Cioè Eeeh Minchia Ah niente È andata così Cioè per me Io lo so quello Che serve per dire Con estrema Ma Diventa Una tortura Con estrema Cioè non hanno bilanciato Neanche un sistema Di difficoltà Cioè è troppo facile E difficile Quale cosa c'è Attenzione Poi da sparo Siamo 80 di quella Poi da sparo Davvero da Mina Io sono qua Dove cazzo Eri tu praticamente Municione di pistola Cioè lì c'è la gente Che si muove Io non so manco Se spararli Non c'ho voglia Cioè Fate che cazzo Volete Allora ma se mi giro di qua Non posso andare di giù Dall'altro lato Di sto posto di merda Tipo passandola qua Qua ci sono Boh diventata azzurra Questa l'ho esplorata Ok Andiamo su di qua Tanto Tanto è così Sì sì Nel senso Il castello dimitresco È fighissimo Da vedere Anche se lo da lontano Però Puoi entrarci dentro Vedremo Vedremo Quando ci siamo dentro Questo castello di merda Allora aspetta Qua devo andare di qua Allora qua c'è Mi sembra pieno di rumori A caso Giusto per farti cacare Qualcuno Ti sento Vedi che ti sento Ah qua c'è una roba Cosa c'è Scarti arrugginiti Munizione fucile Cioè Sono solo un imbecile Andrebbe detto Cioè nel senso Rimarrebbe senza munizioni Sul gioco Perché Significando un bascala Andrà direttamente A prendere lo stemma Perché Ogni casa c'ha Ma porco Ma muori Ma muordimi il cazzo Coglione Ti sento Beh Non lo so Beppe Attenzione Voglio andare Con la parte Di dove ci vado Invecile Perché qua c'è Un Un cadesse Che non posso Togliere Dove cazzo Come cazzo Ci posso D'altra parte Vabbè Tu mi dirai Scavalca La staccionata Esatto Io so già Che adesso Arriva qualcuno Qua Io Mi incazzo Ok Lo senti Io lo sento Ti sento Ecco Eccoti Attenzione Ci sto prendendo la mano Tutti in testa Coglione Cioè se non fossero brutti Come Cristo Non mi farebbero Manco paura Guarda che merda Sono lenti Pianta verde L'ho battuto Ok perfetto Va mi da le spalle Ma cos'è Dai Ma cos'è Sto gioco Un altro Raga Così Così No Testa Ma chi cazzo è Sì Io Testa Testa di cazzo Mi matta sei Tommacete Porco Dio Ma stai calmo Vedi che mi manca mezza mano Ok Anche questo Tanto lo capisci subito Che l'hai ammazzato Perché si sgretolano Quindi va bene Non c'è neanche il dubbio Di dire L'avrò ammazzato Eh pure io Sono arrivato A chiudire la porta Però che cazzo Ti urli Sembra il caso Va bene Allora Ok Come funziona Io devo aprire Questa No Perché Sarebbe stata grigia Esco di qua Ora vuol dire Che per aprire Sti cancelli di merda Troverò solo Dei like Questa non mi fa fare Una minchia No Ho finito il video Anch'io Rifugiti a casa Di Luiz Eh Luiz Allora Ma qua c'è qualcosa No è già Bellino Sto fucile Vediamo se qua C'è la bestia Fido chimico Nel cesso Allora C'è praticamente L'unica parte Spaventosa Finora Che fa L'ho registrata Con il culo Porca Madagina No Lo sblocco Dopo Il cancello Uno dei rilievi È qui dentro Potrei aprirlo Rimuovendo una vite E usa il coltello No Prima devo far entrare Quei due È chiusa l'altra Niente Bisogna aprire Il cancello Quanto ci dai che arriva Pieno di bestie Vai Apri Apri il cancello Apri il cancello Guarda lì Cucu No Vai È dita Una botta Ma su Che mi Cazzo Coglione Ma vai Affanculo Diggielo Un po' No Figurati No Eh vabbè Questa è stata male Eh No Come no Boh Ma infarto Via E ho capito Io non è che posso inventarmi Se padre Miranda Non apre Bestie di Quindi Luisa Ci fa Erco Eh Vi sono da aprire Questi bestie Ma Che cazzo Fai Eh Julian Eh Ma Eh Diglielo Un po' Io sono un amico Beh Eh ma Molto piacere Eh fai così va Testa di pistola Vai Vai Piccio Sparami Sto cazzo Ma Ma Questa qua È La mamma Di Di Jack Stella Va bene Va bene Va bene Salva Salviamo Basta Saperlo Ah io sono scomodo Come Qua c'è da leggere Non so se stessi arrivato Eh Sto parlando con la mamma di Jack Stella Questo è il mio punto del fucile Aspetta Aspetta Di qua Fatemi vedere Le foto Ma non me le fa leggere Non me le fa leggere Boh Sono entrato adesso Lei mi ha detto che posso entrare Sì Allora Aspetto qua Sì Allora Boh Io qua mi sto Mi sto sfogliando una artbook Non lo so Vediamo Cos'è qua Luisa C'è una roba seduta C'è una roba seduta C'è una roba sulla poltrona Mmm Luisa Ci hanno aggredito di nuovo Hanno attaccato anche il bestiame Di questo passo Non credo supereremo l'inverno Ernest è sparito Non riusciamo a trovarlo Madre Miranda Ci ha abbandonati Madre Miranda Allora Non è la vecchia Perché la vecchia Anca ha parlato di Madre Miranda Esatto Qua c'è C'è un artbook Allora Vediamo un po' Qua mi hanno detto Vieni di qua Io vengo di qua Casa di Luisa Sarà ben sicuro No Oh Che è partito un video Eh vabbè Viva Adesso lo sto seguendo Eh Antonio Devi star calmino Grazie Allora Io Bene Non dirlo Ti tiro un cazzotto E ti tiro Se non ti siedi Invalidio Un stupido Un cazzotto Un cazzotto E tu Ti tiro un cazzotto E un ufficio E ti tiro un cazzotto E ti spero di essere Un cazzotto Un cazzotto Un cazzotto Di merda Mi dissocio Tantissimo Però più o meno Quello ha detto Boh Abbiamo finito Stai zitta Stai zitta Boh Boh Sì Boh Questo ce l'ha Con... Boh Non c'è che è colpa nostra Colpa della bambina Colpa della bambina E Luisa sa qualcosa Io già lo so Sennò non ci accoglieva così Dai dai preghiamo Dai ci gasiamo Ci prendiamo per manina Dai Tanta roba Super Saiyan God Vai Vabbè Bloodborne Vediamo cos'è Cos'è la preghiera Il sangue smunto Abbiamo dei problemi Seri Ma che cazzo fanno I cazzo hanno pregato E di factù Lo hanno pregato Ah si Non lo voglio Cazzo ti urli Orco Scemo di merda Ah si trasforma Orco Ma sparali Lasciala Lasciala Lasciali la sua Vai via No Niente Non poteva chiudere La porta No 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 Porca però Spara Spara Eh fai così Grazie Gentilissima Elena Elena Ma stai zitta Muoviti Eh papà Eh papà Porco Papà Eppure Eppure Io immaginavo Però 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 raga c'è un problema Ci ricordiamo Si è stati morse anche noi Si Si esatto Perché lui E' vero E' vero Vediamo che succede Adesso Non c'è un cazzo E' già azzurro Pianta verde per una Raccogli Bravo Ah più avanti A parte che tanto la vita Non si abbassa Manco se glielo chiedi Per favore Però Mai Vedi Mai usati Manco se ti fai mordere Il cazzo dei lupi Che fate abbassare la vita C'è qua C'è una minchia Ok Niente Quindi le mie teorie Su Luisa Andate a farsi fotte E' morta come una cagna C'è una roba da leggere in cucina Comunque Io ve lo dico Se ne hai bisogno C'è un cacciavite nel portachiavi Grande Mi serve Esatto Perché devo prendere Lo stemma Guarda lì Peperoncini Che fa cruschi Di cesco Tanta roba E lì L'olio giavello Si sta parlando Una roba Una roba Utile Cacciavite Ok I cacciavite Sono tutte le chiavi Ma l'avevi già trovato Penso Ma ti sembra il rumore Da fare per un portachiavi Dio palengo Hai visto Che hai sentito No niente Mi dobbiamo dare portachiavi Beh Beh Niente Dobbiamo tornare nei nostri passi Ma io metto in moto Esatto Se avvio Il furgone Che succede Eh le fiamme si sollevano Aspetta Esatto Fuoco di vampa Esatto Avvio il furgone Ma non potevi farla salire No Stai lì brucia La bastarda Brucia Ma tu brucia Intanto Stai indietro Ma da dove Sembra Ma che cazzo fa Ma perché Ma non poteva sfondare Ma dietro non c'era il garage Ma al punto Ma perché Ma perché T'anno venuto qua Adesso mi da dietro E mi fa girare Eh da dio Ci ho capito Ma scusami Ma queste case Le fanno di Materiali infiammabili Totale Ho capito il legno Eh Possiamo solo salire Ricoperte d'olio Non lo so Va bene Quindi questa qua Praticamente diventerà La figlia del presidente No La dobbiamo Dobbiamo proteggere Questa qui Vai avanti Ci fa Eh figurati Qua apposta Ma Lascio a perdere Ma sei morta Ma che dici Ecco Sottile Ma chi ti vuoi incontrare Se la famiglia È tutta fottuta Ma dove vado Di lì Eh 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 E quindi Che dobbiamo fare Non ho capito E allora che cazzo Ci vivi vicino Di bestia Eh no No Lei Siamo la sua nuova moglie fatti scannare niente, scema come cristo va bene ma mica sono fatto più per lei che per la moglie esatto, esatto, esatto perché muoio sempre tutto se non lo so, fatti due domande la gente ha timore attorno e nemmeno io stesso gioco si chiamava The Village Resident Evil potevo dice si, alla fine è un bel gioco hanno tirato fuori non so se mi sono capito, non mi sono spiegato perché si diciamo che alla fine forse era meglio se lo tenevano stai calmo eh si si raga dai per carità capisco che se era un Revelation non potevi metterci Ethan, va bene vai giù vai andiamo ad aprire sto coso tanto qua abbiamo esplorato tutto perfetto, siamo stati brevisti questo posto apriamo cazzo vita allora però capiamoci noi a questo punto ci ritroviamo con parecchie cose ancora inesplorate robe da aprire non abbiamo né manovelle e né i maldelli quindi fondamentalmente per me ci torneremo in 10 ci torneremo boh quindi stiamo andando al castello basta si ma che cazzo era? cosa sta succedendo? eh si devo andare al castello io sblocco la porta non so cosa succederà ma che sei? oh Cristo oh Cristo ah boh chi era? cosa era? madre miranda madre miranda boh andiamo dal castello madre miranda incazzata nera incazzata nera madre miranda no non lo sto trovando brutto è che ormai tanto io devo fare ormai devo devo capire una roba che tanto i titoli classici come nel passato non torneranno mai perchè l'utenza è più grande quindi ci dobbiamo scontentare ah lì la vecchia la morte e bom ci casiamo allora ah guarda lì la vecchia cazzo ridi salviamo quindi vabbè tanto questa ride era lì allora andiamo a bers Huang cioè tendenzialmente le cose comunque sono due o O ci trasformiamo Io sto mettendo il riego del demon Io della donna Oppure Se per l'ennesima volta Qua ci mordono tutti E noi non ci trasformiamo E mi avete rotti i coglioni Perché a quel punto Che enigma Sì Ma tu hai detto l'utenza Devono accontentare l'utenza Andate a cagare voi l'utenza Sì siamo già nel castello Ah qua c'è Questo cavo giallo Esatto c'è un cavo giallo Dove porta A sto cazzo Niente non lo possiamo prenderlo Vabbè Attenzione qua iniziano forse bene le ambientazioni Un attimino Esatto Di Maiden esatto Vedo già le botti del vino di vergine Ok Allora qua è tutto già blu a prescindere Quindi I capitelli corinzi Aspetta Bello 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 Chiusero l'altro lato Il vino lezzo Intanto è tutto blu Io devo vascare Ma che cazzo vasco È tutto blu Orco di... Chi cazzo è? Non pensavo di nessuno L'altro lato Devono essere Bello Che successe È arrivato padre Gasconi Oh Io apro la porta Ok esatto Cazzo è un super saiano Un po' di sera Gioco di merda Ma questo sei piatto Pone una lancia Ma che... Ma che è il magneto Orco che cazzo è? Ma che cazzo So Sir Ghosh Che ci concerniamo Caccia e cena La patenia La fatta che soffria È assurda Rag 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 Perché la patenia La patenia è uscita nel castello Blua 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 Eh Ho słuchti di tutti gli argomenti Cosa di tue Avetevi più profondi Ma Ho fatto la mia decisione Heisenberg Heisenberg Spacciatore Sì anche Esatto Andiamo con lui Andiamo con lei Raga Ma io volevo andare con lei Veramente Ha Lycans And gentlemen We thank you for waiting And now let the games begin Let's see what we are Ethan Winters Get ready No way 10 5 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Corri Bestia Showtime Eh Ma vai Scacciate in giri Guarda qua Dark Souls 3 Ma cos'è sta roba Urco Hagrid Ehi Ma cos'è la corsa Ok Era preso Eh Cazzo De Dio Ma cos'è la corsa Ma cos'è la corsa Ma cos'è la corsa Ma cos'è la corsa Calcati Spacca di calcati Buttati sotto Eh Scusi Che questo è da correre Scusi Sono morto Quando muori ti fa cambiare difficoltà però Attenzione Quindi in realtà No ma da capo raga Eh che cazzo Allora porta pazienza come cazzo Le superiste lame rotanti C'è un'insenatura Dietro di te C'è un'insenatura Ti butti lì contro E passa con visi Oh Non mi sembra che ti dimenticare Non mi sembra di lasciare Donne morò Con di fatto di un Abbiamo finito di dire cagate Ehi quattro signori Ma sono andato avanti Dove sei Eric? Eh sono Ho finito ora Sono scappato ora Da l'era meno tanti Stanno andando avanti Ok Ok boh Io da lì quattro ti aspettavo Allora vado avanti Posso dire la mia Vai Questo gioco è una merda No ma Non c'entra più un cazzo Ufficialmente C'erano mille maniere In cui potevano rendere Il discorso vampiri Licantropi Azzeccato Con Resident Evil E così no ragazzi Così siamo passati davvero Alla telecinesi Che fa Gli Hunger Games Entriamo in sto castello Di merda Gli Hunger Games Stanno andando giù di qua Io seguo la strada Tanto tutto azzurro Quindi Praticamente Il castello Non è dei Dimitrescu Non è solo Dimitrescu E' pieno di gente Di merda Tendenza C'è sta Allora abbiamo sta vent Io sono ancora Alla manovella Penso Io sono subito fuori Qua c'è gente Tutto uguale Crucifritta Poi non c'è niente da vascare Cioè non ti danno Cioè è tutto azzurro Cioè è solo da andare avanti E basta Sì ma nel castello Questa cosa cambierà Però stona Tutto troppo Dice il mercante L'abbiamo già visto Nei trailer Allora Qua Qua c'è di di spaventapazzo Ah si Nel campo c'è qualcosa Vediamo se nel campo C'è qualcosa Tanto che cazzo Cerco Tanto Ho municione Straforte Ma di che cazzo Sta parlando Dici Dica quanto mangia Quei Quei Eh Eh Apri il negozio Il borsello del duca Ma senti Io non compro una minchia Potenzialmente Posso potenziare la pistola Posso Sì sì La pistola No ma io non potenzio una minchia Non serve Ma io potenzio Che cazzo Ne frega Tanto Per adesso Poi vediamo più di più La pistola La pistola C'è quella che uso di più Ah non ho soldi Non si può potenziare un cazzo Allora Miglia di potenza Soluzione medica Ma che da Attenzione Questa è la porta Questa è la Eh vabbè Però se la apri in automatico Mi stavo guardando attorno Ora lì Le tre marie Castello dimitresco No il castello è della dimitresco Gli altri vivono così Vivono in giro Parle la dimitresco E lei che sovvenziona Occhio Lei Qua speriamo sia un attimo un po' più 5 gennaio Rednik Consegna di un uomo e tre donne 28 gennaio Madre Miranda Incontro con la dimitresco 1 febbraio Il duca Incontro d'affari Bobbi appuntamente Le tre figlie Bela Cassandra e Daniela Pazzesche C'è qua È tutto molto Io mi devo capire come giustificano Il nuovo virus Io sono proprio Curioso A me Stai iniziando Secondo me Non c'è Nessuna minchia di virus Quanto ci dai Che non troviamo più nessun virus Non succede una minchia Ma guarda Sto vedendo Troppe robe Che non mi piacciono In ora come ora Attenzione c'è Dei esplorare ancora Dove c'è il quadro C'è la polvere La spada Dentro un mobile Ah già fatto Già fatto Che sei migliore No È che qua Tanto Sirius è E quindi Allora Destra o giù Destra o giù Allora qua c'è un ascensore L'ascensore non va Non ci dopo Non va Ho già provato tu E allora vado Dalla porta a fianco Beppe Allora qua c'è un ascensore